Voglio, Alessandro, prima di congedarti, prenderti ancora due minuti, perché una delle domande che non erano legate alla lezione, ma diciamo così alla stima per te e per il tuo lavoro di racconto della storia che fai con i libri, che fai in televisione, che fai nelle conferenze, fino a quando si potevano fare e quando si torneranno poi a fare, qualcuno ti diceva, ma professore dovrebbe parlarci anche di Napoleone. In realtà non solo te ne sei già occupato, hai fatto diverse lezioni su Napoleone e anche un libro in particolare su Waterloo, sulla battaglia di Waterloo, anche quello insomma premiato da un grande successo, però mi incuriosiva e qua diciamo ti faccio una domanda mia in sostanza, un po' fuori asse, ma magari in due minuti ce la sbrighiamo, perché c'entra con la presa del potere. Siamo nell'imminenza di un altro grande anniversario, appunto quello napoleonico, si è alzata già una polemica incredibile intorno a Napoleone e alle celebrazioni napoleoniche, una storica in particolare ha detto che appunto Napoleone va considerato un razzista e un genocida. Quando tu senti, diciamo così, questo tipo di dibattito attivarsi su figure che sono ovviamente complesse e tu non fai altro da parecchi anni che spiegarci la complessità delle cose, provare a farci entrare la complessità delle cose, quando però diventa un derby contro Napoleone, però fatto a 200 anni di distanza, che sensazioni hai? Pessime devo dire, nel senso che un conto è dire Napoleone è interessantissimo, è stato un uomo che ha incarnato un'intera epoca, che ha affascinato un'intera generazione, che ha cambiato il mondo e non in peggio, va detto, e di conseguenza parlare di lui, occuparci di lui e ricordarci di lui è assolutamente fondamentale e sarebbe grottesco che dovessimo smettere di farlo, e al tempo stesso Napoleone come persona era una brava persona? Probabilmente no, era un ambizioso, era un egoista, era un piccolo borghese, era uno che... Allora, ma certo, ma chi se ne frega di tutto questo? Perché il Napoleone di cui noi parliamo non ne parliamo per venerarlo, ma ne parliamo per riconoscere l'enorme importanza di un uomo che al suo tempo appunto ha preso la storia d'Europa e la spinta in una direzione che a molti all'epoca non piaceva e ad altri invece sì e che però complessivamente a noi credo che non possa non piacere, ecco. Ma al di là di questo, io devo anche dire, so che è inutile dirlo, so che qualcuno mi dirà, mi si arrabbierà per questo, lo dico lo stesso. Anche Socrate era razzista, anche Lincoln era razzista, tutti sono sempre stati razzisti a questo mondo, fino a quando noi, alla nostra epoca, non abbiamo scoperto a livello teorico, in pratica è tutto un altro discorso, ma a livello teorico non abbiamo scoperto il fascino di una posizione in cui invece appunto il razzismo viene considerato una brutta cosa e è eliminato. Tutti sono sempre stati razzisti, tutti sono sempre stati maschilisti e sarebbe veramente infantile se noi dicessimo, oh ho scoperto che Giorgio Washington aveva gli schiavi, non lo voglio più Giorgio Washington, ho scoperto che Giulio Cesare, ah, ma dai, su, per piacere. Fermo restando che dobbiamo aver chiaro che la storia non si fa, forse è questo l'equivoco, per venerare i personaggi che studiamo e di cui parliamo, ecco. Si fa per capirli, magari anche condividendo il senso della loro grandezza e della loro gloria, che rimane intatta anche se hanno commesso crimini e hanno avuto idee che a noi non piacciono. Amen. Ecco, assolutamente d'accordo e d'altra parte arrivano ulteriori commenti del tipo monumentale la risposta su Napoleone. Qualcuno fa l'obiezione sul rapporto tra celebrazione, discussione, studio, vabbè, però insomma andremmo lontano, ma secondo me questa messa a fuoco di un certo infantilismo di approccio nei confronti delle figure del passato era veramente importante anche in questa sede, visto che parliamo di presa del potere, personaggi comunque molto complessi e spesso anche non proprio del tutto, le cui vite non sono del tutto edificanti, come si diceva qualche volta, ma d'altra parte perché dovrebbero edificarci, no? Insomma non è stato loro richiesto di edificare i posteri in qualche modo. Grazie ad Alessandro Barbero, veramente sempre straordinario dialogare con lui e ascoltarlo, e grazie a tutti quelli che hanno seguito ovviamente questa sia la lezione ancora visibile fino al 30 giugno nella sezione Masterclass di Auditorium Plus e noi ci ritroviamo domenica prossima. Grazie mille al professor Barbero.